Per poter leggere i tarocchi bisogna avere un dono, sono parzialmente d'accordo con questa affermazione, andiamola a vedere. Come ho già detto in un altro video, i tarocchi, se non è il giusto contesto, sono solo pezzi di carta. Ti serve un contesto appropriato per imparare a decodificarli. E quindi possiamo effettivamente dire che serve un canale aperto verso il nostro mondo interiore, verso il nostro inconscio oppure se preferisci in una visione più spirituale verso la nostra parte più divina, la nostra anima. Perché è lì il canale, il dialogo che si apre attraverso queste immagini, queste figure archetipiche dei tarocchi. Ora, questo può essere considerato un dono? Sì, ma non è un dono che hanno solo poche persone. Mi spiego meglio. Faccio un esempio con la musica, no? Se sei un cantante, se sei un musicista, sicuramente puoi avere il dono. Un dono che ti permette di sviluppare queste skill più facilmente e magari essere più bravo, no? Per esempio, l'orecchio assoluto. Questo però non significa che un'altra persona, attraverso l'allenamento, non possa sviluppare un'altrettanta capacità e quindi un ulteriore dono in questo senso. Cosa vuol dire questo? Che il dono, in realtà, è dentro ognuno di noi. Perché fa parte della nostra parte più istintuale, più animale, più intuitiva. E sicuramente ci sono persone che hanno naturalmente più sviluppata questa parte ed altre meno. Ma da cosa dipende questo? Dalla nostra capacità di ascoltare e di ascoltarci in maniera profonda. Perché tutto nasce da lì. Da questa capacità che in realtà, per cultura e per percorso, diciamo, sociale, abbiamo tendenzialmente dimenticato. Ma è qualcosa di naturale che è dentro ognuno di noi. Quindi questo vuol dire che, sì, c'è un dono, serve un canale aperto, ma tu, se lo desideri, puoi imparare ad aprirlo. Semplicemente imparando a entrare in contatto col tuo potere personale. Se questo video ti è stato utile e ti è piaciuto, ti chiedo un aiuto. Ovvero di ripubblicare questo video in modo tale che possa arrivare ad altre persone che possono beneficiare di ciò che condivido e possono quindi iniziare a trasformare la propria vita.